Finalmente l'Aquila ha la sua prima ludoteca comunale al Parco del Sole. Si chiama il Piccolo Mondo e arriva dopo un percorso intenso di partecipazione. La ludoteca si trova nei locali dell'ex Serra e la sua nascita arriva al culmine del progetto Solo posti in piedi, educare oltre i banchi. Un'iniziativa finanziata dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Nel progetto sono coinvolte nove associazioni, il comune e l'università, con quattro istituti comprensivi. Un momento molto importante con tante sinergie che hanno prodotto un risultato significativo per la città che era sprovvista di una ludoteca. Significative sono state pure le azioni che le associazioni hanno portato avanti nelle scuole. Abbiamo lavorato con le scuole, abbiamo lavorato con la città, attraverso anche l'università abbiamo creato dei momenti di partecipazione con tutta la comunità, abbiamo fatto i percorsi di partecipazione per pensare questo luogo che è una ludoteca. È il primo servizio di ludoteca comunale in città che per otto mesi gestirà il progetto solo posti in piedi e poi il comune si è impegnato, anche perché ci ha messo molto impegno anche in questi anni e in questo percorso, quindi siamo convinti che sarà così, di fare un bando di assegnazione e quindi diventerà proprio un servizio come i pulmini, come la mensa, come l'asilo nido che il comune dell'Aquila offrirà alla città. Anche il comune si è molto impegnato in questo percorso con l'assessore Francesco Bignotti ma anche con l'assessorato all'ambiente perché l'area ne esce finalmente riqualificata nel suo insieme. Ci ha permesso anche di chiudere il cerchio in un certo senso del Parco del Sole, uno dei parchi più importanti della città, uno dei più amati, dei più frequentati. Abbiamo adibito diverse aree del parco a diversi tipi di attività e anche a diverse fasce d'età. Per ultima la realizzazione dell'area della terza età, la possibilità di svolgere all'interno di questo parco anche attività che sono ludico-ricreative, sì, ma anche formative e sociali, di una socialità importante per questi ragazzi, dà un valore aggiunto al parco, alla città e credo anche a questo progetto.